Non solo Covid, bisogna fare i conti anche con le altre patologie. Una di queste è l'atrofia muscolare spinale, detta SMA, una malattia genetica rara che si può presentare anche in età adulta. L'atrofia muscolare spinale è una malattia neuromuscolare di origine genetica, caratterizzata dalla degenerazione del secondo motoneurone, che è quel neurone che parte dal midollo spinale, arriva al muscolo e ne controlla il movimento. Per cui la manifestazione clinica principale è la debolezza muscolare, prevalente agli arti, ma che nelle forme più gravi aggredisce anche la muscolatura respiratoria e della deglutizione. L'atrofia muscolare spinale è considerata una malattia rara, la sua incidenza è di un caso su 10.000 nuovi nati, ma in realtà è la seconda patologia genetica autosomica recessiva più frequente dopo la fibrosi cistica. La SMA è una malattia ancora poco conosciuta e che nelle sue forme più gravi può portare alla morte. Proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo questa patologia è nato Lupo racconta la SMA, un libro di favole illustrato dall'Istituto Europeo di Design, che ora è anche un audiolibro con la registrazione di un podcast da 14 puntate. Il progetto multicanale si può trovare sulle principali piattaforme online. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!